Il governo non sta con le famiglie, la Lega ha chiesto di rifinanziare un fondo di interventi a favore delle famiglie, in particolare per la realizzazione di asili nido, un fondo che si esaurirà con il 2015, c'è stato bocciato, quindi questo certifica la volontà di questo governo, di questa maggioranza, di non aiutare le coppie, soprattutto quelle giovani che vogliono mettere al mondo dei figli e per i quali non ci sono dei servizi adeguati a partire dagli di asili nido.